Oggi siamo a Senigallia, io, la Sara e la nostra amica Francesca che ci sta gentilmente facendo da videocameraman e registra tutto, quindi farà direttrice di orchestra. Buonasera! E vi racconteremo un po' in breve la storia di questa bellissima cittadina, perché nessuno lo sa, ci siamo così abituati a vedere quello che abbiamo intorno che riusciamo ad accorgersene soltanto quando arriva qualcuno dall'esterno, quindi vediamo una spolverata ma leggera solo per passare una decina di minuti in compagnia. Ma sì. Allora, intanto, nome Senigallia, secondo voi, a dove viene? Questa è una domanda che ho fatto a Monti e nessuno mi è riuscito a rispondere. Dei Galli Senoni! Vai Francesca, batte 5! Allora, sì, esattamente, i Galli Senoni, che da Nord si sono spinti fino a arrivare nelle Marche, quindi l'intero Marche Nord apparteneva a loro, era il loro territorio, fino all'esilo. Quindi, nel centro Italia, chi ci stava? Un sacco di gente. Chi c'erano? Gli Etruschi, gli Romani, Galli, gli Umbri, bravo, i Piceni... L'assemblamento non dà meno. Esatto. Poi, adesso, sappiamo bene cosa vuol dire assemblamento, vero, quindi... E in ultimo, i Sanniti, non li avete mai sentiti? Ci sta, i Romani li erano cancellati dalla faccia della Terra, poveri Cristi. E quando è che è successo? Che è successo? Non mi ricordo, quando è che è successa questa cosa? 295 a.C., battaglia del Centino, verso l'attuale Frassassi. Praticamente è riluminata la battaglia delle relazioni. Non abbiamo inventato niente, esisteva già tutto al principio. Quindi, che cosa è successo? Questo fu corrigente, che ognuno aveva la sua lingua, la sua cultura, la sua storia, la sua religione... E tutti di più, insomma. E tutti volevano stare qua. Le sue merci, le sue tradizioni. Ma infatti i Galli sono venuti qui a Senigallia, appunto, già nel IV secolo a.C., sono rimasti un bel po', insomma. Quando arrivano i Romani, non è che queste operazioni scompaiano. Andavano verso l'interno. E infatti pare, avevo letto, che il famoso ciauscolo, che è un salume marmellata delle parti dell'interno... Salume marmellata, bellissimo! Lo chiamano così perché è spalmabile, viene proprio dai cerchi, viene proprio dai Galli. Perché andando verso l'interno, sono portati per la perdizione della marmerata delle composte. Quindi, cosa è successo? Roma aumentava la sua potenza, quindi si affacciava sempre di più, si spostava verso l'interno, verso le macchie. I Piceni si erano stancati perché poveri loro laggiù, i Saniti gli prendevano le terre, i Saniti stavano in Molisa, Abruzzo, in quella zona lì, e quindi gli stavano sul cavolo. Allora cosa hanno fatto? Si sono formate le coalizioni. Piceni, Romani, il resto si è aggregato a Sicilia. E il vinto è... Roma! Insomma, Senigallia è stata, questo probabilmente in pochi lo sapranno, la prima città romana del Medio Adriatico. Non si sa bene, probabilmente entro nel 284 avanti Cristo, si pensa con Magno Curio Dentato, finalmente sono riusciti a confessare Senigallia. Ma che c'era, c'era. Praticamente già ci stavano i Celti, loro stavano per il cavolo di loro in Santa Pace, e i Romani gli hanno detto, no, mi dispiace, questa è casa nostra. E quindi hanno cominciato a formare tutte le colonie, venendo giù da Rimini, Pesaro, Fano, e infine Senigallia. E Senigallia prende il nome dai Galli. Cioè, non infatti una volta si chiamava Sena Gallica. E questa è la storia. E perché siamo qui davanti alla Rocca? Un po' perché c'era un po' più silenzio rispetto alle altre zone del centro. Ma un po' perché la Rocca è un po' il libro della storia di Senigallia. Adesso lo vediamo con le mura roveresche, per carità, nella fine del Quattrocento. Non hanno trovato delle strutture romane all'estito della Rocca, ma hanno trovato comunque dei resti di vasellame romano, cose antiche. Questo sì. hanno trovato dei blocchi in pietra linaria secondo alcuni, oppure tuffo secondo altri, probabilmente pietra linaria, che facevano parte di un edificio trato antico. Quindi fine Impero Romano. che però forse, nel dubbio, vuoi vedere che magari, lo sappiamo cosa succede, ricicliamo tutto. Riciclano tutto, riciclano tutto. Quindi magari c'era qualcosa di romano, hanno preso quello che c'era, hanno costruito questo edificio trato antico e poi da questo edificio, dal stesso materiale, hanno messo il materiale nella Rocca. Infatti se andate a vedere nel quartiere ci trovate proprio questi blocchi. Quindi vorresti dirmi che i romani, anzi i della Rovere erano i primi ricicloni della storia? E mica sono loro. Erano già attenti, diciamo, già attenti alla raccolta differenziata? Certo, che butti via le pietre e no, non si fa questa cosa. Si butti via la roba, si inquina, si ricicla tutto. Certo. Come ho detto prima, non abbiamo aumentato l'acqua calda. C'era già. Ma poi all'interno della Rocca troviamo anche questa torre d'ardo medievale che è in pietra calcarea e ci dimostra una volta di più probabilmente che il mare era molto più vicino al centro. E' per questo che qui c'è questo fossato? Perché cosa ci fa un fossato? C'erano le chiuse. Qui c'era tutto un fossato con delle chiuse per far entrare e uscire l'acqua. Allora, di cosa vogliamo dire tutto ciò? Che Senigallia esisteva da più di 2000 anni. Ahimè, durante il corso del tempo, per effetto del riciclaggio, per effetto dell'incuria, perché Senigallia è anche stata abbandonata per poi essere ripopolata, sempre trasformata. Buona, 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 perché Senigallia... Sapevo che partiva in quarta. Eh no, eh no, ce la farei chiarezza. No, perché i doppi romani è diventata una palude. Esatto. Era la palude delle Messaline. Le Messaline erano una palude, infatti erano malattie. Esatto. Per esempio c'è la Fontana dei Leoni che è proprio stata fatta per ricordare di quando le Saline vennero bonificate. Sotto. 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 Esatto. Che erano i cugini di Federico da Montefeltro. I cugini discendenti. I discendenti, sì. Allora Giovanni aveva spazzato Giovanna, a fantasia portami via quei nomi. Però, almeno quando chiamavi Giovà rispondevano tutti e due, quello era sicuro. E come dicevamo, sì, Senigallia si viene abbandonata ma ad isole, non completamente. Senigallia è una città che sopravvive al Medioevo. E non è una cosa che si possa dire di tutte le città della zona. Alcune città romane del Medioevo vennero completamente abbandonate perché magari si trovavano in basso, non erano protette, magari vanno sulla collina non si stabiliscono si liberano sulla collina, che invece no. Però è una città che soffre. Per dire, Dante Alighieri la nomina come una città che sta morendo. E queste sono poche parole. Se è morto sono a lui. Alla faccia sua. Voglio dire, qui ci è venuto anche Cesare Borcia a rompere le scatoline. E Leonardo no. Infatti pare che la duchessa della rovere, pare che ci sia proprio scappata una rocca. E Leonardo? No. E so che c'era l'inciuccio collonato da linci. Niente da fare. Finnaggia. Allora, praticamente all'interno della rocca c'è una cappellina chiamata cappellina della duchessa con un passaggio che ora si vede, ovviamente probabilmente era nascosto, grazie al cuore si passava e si usciva poi dalla rocca. Quindi pare che questa duchessa abbia preso questo passaggio e si è defilata quando sapeva che sarebbe passato e che sarebbe volta. A parte il figlio del Borgia, il legittimo, andando più avanti c'è anche il palazzetto Baviera dove, se non mi sbaglio, i discendenti, i proprietari erano riparentati con Sissi, la presentante principessina Sissi. Allora, c'è da dire questo. Cioè, che inciuci! Meglio della solpa, veramente. Allora, in pratica, viene mandato qui a Senigallia Giovanni della Rovere. Lo zio di Giovanni della Rovere, Gian Giacomo Baviera se non ricordo male, è arrivato quattro giorni prima di Giovanni della Rovere, appunto per preparare il terreno e con, appunto, il Baviera è stato costruito il palazzetto Baviera, ovviamente. Gian Giacomo Baviera era praticamente un parente lontana di Sissi perché, in pratica, sempre parente era un ramo della sua famiglia che del 300 si staccò. ma che c'era un futuro imperatore che si incavolò col fratello perché non l'aveva votato e quindi caccia via il fratello una volta che diventa imperatore. Ah, questo è come l'Eurovision, che gli spagnoli si sono incavolati perché gli italiani li hanno votati. È uguale! Comunque a Senigallia c'è nato anche un papa, eh? Sì. Papa più nono. Sì, sì, ma stai, certo. Giovanni Maria Mastaiferretti Nel 1631 la Rocca divenne una prigione perché, siccome erano finiti i maschi della Rovere, allora tutto il ducato finisce al papato. No, cerchiamo di capire una cosa. Praticamente qui c'era una legge che diceva che queste terre erano in vicariato, in concessione del Vaticano, quindi, e andavano in concessione solo e esclusivamente i figli maschi, quindi finito, dici, l'ultimo discendente maschio aveva votato solo femmine, una. Perché sennò le donne avrebbero comandato troppo bene, vero? Esatto. Una, e che cosa è successo? Il Vaticano ha voluto riprendersi quello che era suo. E così è finita la dinastia sia della Rovere che del Montefiltro di Rubino perché si erano imparentati. Era il ducato di Urbina. Il ducato di Urbino. Raga, Senegaglia faceva parte del ducato di Urbino, mettetevi il cuore in pace. In effetti tutto quello che era dentro la rocca è finito lassù. No, è finito a Firenze. È finito a Firenze, mia cara, perché l'ultima discendente del Montefiltro della Rovere, Vittoria, è andata in sposa a un medici. E come dote, logicamente, suo nonno, perché il padre era morto, gli ha praticamente dato tutto quello che si poteva malamente portare via, cioè tutto quello che si poteva staccare dal muro, staccare dal suolo, gliel'ha dato. Non gliel'ha dato le pietre perché... Tre confesante. Esatto. Quindi, se tu vai a Firenze, non solo trovi tutto quello che è della Rovere e del Montefiltro, ma ti trovi anche metà dell'attivio storico di Urbino. Perché Federico da Montefiltro e sua moglie Battista sforza solo dagli uffizi? Per questo motivo qui, preso il quadro, Vittoria si era messo sotto l'ascella e l'anagonia. Insomma, prendi l'arte e mettila da parte. Esatto, letteralmente in questo caso. E quindi vorrei dire, considerando che le bocca non si lavora nemmeno tanto in macchina. Mamma mia che sch... Puzza, puzza. Si coprivano anche molto, molte stoffe copriva. Sì, ma la puzza non si copre. Quella no, mai quei profumi e borotaico. E quella cosa, la stessa identica cosa, poi più avanti, successa la dinastia dei medici. Ahimè. Il karma. Il karma. Vuoi dire qualcos'altro, Saretta, che andiamo in chiusura? Beh, che dire? Che quelle troniare là? No, non si arrivano a sparare alle talpe, per come sono in basso. Ma è successo che nel 1930 ci fu un gran terremoto, grazie al quale hanno un po' restaurato la rocca, e molto del materiale ormai distrutto, di cui non spero una cosa fare, lo misero sotto. Coprivano tutto con la terra e da qui il prato. Quindi devo immaginare che in passato la rocca fosse più slanciata, che fosse più alta. Ti dico quello che pensavo che fosse. Io pensavo che ci lanciassero l'olio caldo. Allora all'alto. Allora ci sono le calitoie, che adesso da qui non si vedono, praticamente sotto... E quelle abrasioni, vedi, degli stemmi, allora o sono state un po' le varie contere, vedete comunque è pietra bianca d'istria, da qua non è marmo... Ma è anche probabile, come anche all'entrata della rocca, ma anche in alcune pietre all'interno che una volta erano incise, che ci siano passati le campagne napoleoniche e abbiano proprio cancellato tutto quanto. Con l'interno siamo sicuri perché c'erano proprio delle iscrizioni che sono proprio bravi. No, ma un po' a tutti gli sta sul cavolo a Napoleone perché anche a Palmanova ha fatto la stessa cosa. Ecco, dove passava... Do coi o coi. Senigallia non era bisogno che si cancellasse niente perché praticamente era un acquitrino. Cioè noi abbiamo avuto il 4 maggio del 2014 alluvione, ma non è una cosa nuova, perché comunque Senigallia aveva il mare, il fiume Misa, il torrente Penna e le saline, come dicevamo, era una palude. Esatto. Quindi praticamente Senigallia era costantemente allusionata. È uno dei motivi per cui tante cose poi sono andate perdute. Comunque Senigallia aveva già parte della Pentapoli Bizantina. Qui diamo informazioni ai poverini che non siano... Ah, rimini! Voi che... Mettetevi il cuore in pace. Facevate parte della Pentapoli Bizantina, quindi voi eravate insieme alle Marche. Mi dispiace. Ciao ciao, alla prossima. Abbiamo finito questa volta, grazie dell'attenzione e speriamo vi sia piaciuta questa idea. Se avete qualche località da proporci, magari nella zona, saremo felici di prendervi in considerazione. Bye!